All'Agropoli dal 25 aprile al 5 giugno gli eroi del calcio, terza edizione organizzata dall'Ussi Unione Stampa Sportiva Italiana e da Antonio Ruggiero. Si parte con Careca il 25, Taccone il 26 aprile, poi Mighitello il 4, poi Maresca il 3 giugno, Ravanelli il 5 giugno. Ma ci saranno anche tantissimi altri ospiti che arricchiranno questa manifestazione giunta, come vi dicevo, alla sua terza edizione. Agropoli capitale del calcio con gli eroi del calcio, soprattutto per ricordare Vincenzo Margiotta, il più grande calciatore agropolese salernitano, ancora capogannoniere, record della salernitana. Il primo anno il premio Margiotta era da Schillaci, l'anno scorso a Immobile, quest'anno a Careca. Non mancate ad Agropoli il programma, lo potete trovare ovunque. Grazie a tutti.